buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di inter for passion allora 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 brevemente questo video nasce veloce perché ho appena visto una live dell'amico donato inglese scrivetevi al suo canale perché è uno spasso e niente nella live ve lo dico dopo la sigla ri buonasera a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video di inter for passion iscrivetevi al canale attiva della campanella vi lasciamo tutti i link in descrizione e niente stavo dicendo guardando questa live dell'amico donato inglese continuava a ripetere che sta impazzendo perché senza calcio non ci sono argomenti sta impazzendo sta impazzendo allora mi domandavo dart tu come stai passando questo periodo di quarantena senza calcio cosa sto facendo sono sulla mia una bestia in mare e sono in quarantena anzi in ottantena ormai e per fortuna che la sera mi guardo i video del maestro del maestro del maestro sennò non potrei fare niente sarei qui a trucidare i miei sottoposti e ancora 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 orzo mio orzo mio allora dart ma dimmi una cosa tu che sei esperto no ma questo campionato riparte o non riparte perché sennò il nostro amico donato impazzisce davvero il campionato ma secondo me non ripartirà questo campionato come già avevo detto in diversi video l'unica cosa secondo il mio punto di vista in questo momento che ci rimane da fare è tanto orzo 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 dart sta diventando terribile sta diventando veramente terribile però ti faccio l'ultima domanda poi ti do la buona notte ma diamo a noi qualche notizia qualche spunto di riflessione l'amico donato inglese ma messi lo prendiamo o no questa è una domanda che rigirai al maestro al maestro al maestro è più facile dare di messia più che messi in questo momento credo che più di calciomercato dovremmo iniziare a parlare un po' di patata cosa ne pensi anche tu e poi ancora dart ma lautaro parte o non parte lautaro luce è andato via lautaro non è più cosa mia no lautaro una bravia secondo me è una bravia troppe troppe chiacchiere si stanno facendo troppe chiacchiere l'inter come al solito è l'unica squadra che deve essere sotto i riflettori anche durante l'ottantina dovrei prenderli e cucidarli tutti questi giornalai grazie dart simpatico come sempre sei molto simpatico che dire ragazzi grazie di averci seguito link giù in descrizione tutti i link dei nostri social iscrivetevi al canale attivate la campanella vi saluto tutti saluto anche l'amico donato inglese e ci vediamo al prossimo video di inter for passion ah maestro quando vedi questo video vediamo di fare una live insieme così tutti i lettera i trucci ti amo